Le scuole incontrano le aziende, le aziende incontrano le scuole. E' stato il tema dell'incontro andato in scena al Maschio Angioino di Napoli, organizzato da Oggi Scuola e dal segretario generale del sindacato autonomo, Feder Istruzione, Antonio Scarpellino. Il ministro Bianchi ha previsto un taglio di oltre 10.000 cattedre dell'organico di diritto, l'organico che prevede sia le assunzioni sia eventualmente le mobilità per i docenti che sono, ricordiamo, ancora bloccati fuori. Pertanto sia il governo sia il ministro Bianchi tutto stanno facendo, tranne che indirizzare il PNNR per un reale progetto scolastico. Gli studenti si troveranno sempre con classi più affollate e la famosa denatalità che sta sventagliando Bianchi a destra e a sinistra non aiuterà assolutamente a liberare le classi. Un evento internazionale sulla sinergia tra scuola, università e aziende in una dimensione multiculturale, ma anche una manifestazione che ha gettato le basi per il superamento della tradizionale e ancora persistente dicotomia tra scuola e mondo universitario e del lavoro. Il vice sindaco di Napoli, Maria Filippone, è il direttore del Dipartimento di Scienze Tecnologiche dell'Università Partenope di Napoli, Giorgio Budillon, sulla questione si sono così espressi. Noi qui abbiamo ragazzi di grande talento che hanno bisogno di un'opportunità. Allora, mettere insieme, mettere in rete le risorse, gli imprenditori, con gli studenti dei nostri istituti professionali, in questo caso che si occupano di moda, perché questa è l'attività della quale parliamo oggi. Devo dire, può essere veramente un'opportunità, un'occasione, un volano e quindi chiaramente noi ci siamo. Le università sono l'anello di congiunzione che precede poi l'ingresso tra scuola e l'ingresso nel mondo del lavoro. Per cui la nostra attenzione è rivolta a creare delle figure che abbiano poi delle competenze professionalizzanti che possono poi introdursi direttamente al mondo del lavoro. La Kermess, ispirata e dedicata al bisogno impellente di legare il mondo dell'istruzione a quello del lavoro, ha visto sfilare circa 30 abiti storici e teatrali del Cinquecento e del Novecento, tutti ideati, progettati e realizzati dall'Istituto Isabella d'Este Caracciolo di Napoli, diretto da Giovanna Scala. Bisogna oggi coniugare i due aspetti, l'aspetto tecnologico che sta all'avanguardia, richiesto, e l'aspetto artigianale che non bisogna perdere. Perché non bisogna perdere l'aspetto artigianale? Perché rispecchia la vocazione di ogni centro.